Per prenotare via web le prestazioni sanitarie basta andare su prenotosalute.regione.liguria.it Tieni a portata di mano la tua tessera sanitaria in corso di validità e una prescrizione medica valida. Indipendentemente dall'ASLE di appartenenza, scegli l'ambito geografico che preferisci. Per essere riconosciuto dal sistema dovrai inserire il tuo codice fiscale, gli ultimi cinque numeri della tua tessera sanitaria e il codice della ricetta. Per poter procedere è necessario inoltre dichiarare di aver preso visione dell'informativa indicata cliccando sull'apposita spunta. A questo punto potrai procedere. Se è la prima volta che accedi alla piattaforma ti verrà chiesto di inserire il numero di telefono, altrimenti di confermarlo. Questo ti permetterà di essere contattato tramite sms o telefonicamente per eventuali necessità del servizio. Premi conferma per proseguire. Inserendo i dati richiesti il sistema ti mostrerà tutte le ricette attive emesse a tuo nome. A questo punto potrai scegliere quali ricette portare in prenotazione, anche più di una. Premendo il pulsante procedi il sistema evidenzia quali prestazioni sono contenute nella ricetta selezionata o nelle ricette nel caso tu ne abbia selezionate diverse. In questa fase è possibile modificare la data di inizio ricerca delle disponibilità. Se le prestazioni contengono avvertenze è necessario leggerle prima di poter proseguire. Scegli la struttura dove vuoi prenotare la singola prestazione. Spunta l'opzione migliore per te tra tutte quelle disponibili e conferma. Ripeti l'operazione per tutte le prestazioni associate alla ricetta o alle ricette nel caso tu ne abbia selezionate diverse. In questa fase è comunque possibile modificare le tue scelte. Per confermare le scelte effettuate premi il pulsante prenota. Viene generato un riepilogo della tua prenotazione. Se non hai alcun tipo di esenzione viene generato anche l'avviso di pagamento pago PA che puoi utilizzare per pagare online. Se la tua prestazione lo prevede puoi scaricare e compilare i moduli necessari. Ricordati di leggere il promemoria. È importante perché contiene le informazioni sul tuo appuntamento tra cui il codice di annullo nel caso tu sia impossibilitato a recarti ad effettuare la prestazione. Se vuoi puoi anche scaricarlo e stamparlo. In un paio di minuti hai il tuo appuntamento.